Benvenuti ragazzi per questo nuovo video della Iain e Ubisoft sia il cui con Luke99DS e Mertz001 Jedi6 non è potuto venire per oggi ma verrà per il prossimo video ora siamo qui, siamo atterrati sul pianeta dei Bukki Lada, è il maestro Yoda ora c'è Yoda posso crederci è Obi-Wan Kenobi ha scoperto il signore del Sith mamma mia benvenuti Padua giunti in un oscuro momento tempo di prove, tempo di pericolo grandi speranze in voi noi abbiamo eh si grazie riposate domani inizieranno le vostre decisione è un tappetto così, però non è forte ma poi non capisco come dobbiamo battere quello che è un fantasma non lo diranno? no non è, non dobbiamo battere, per fortuna è buono guarda ci sta pure la scimpazzè un bravo di gola e ci sta sempre la tua oh ci sta lei mal truccata come sempre con il suo fascino da cadaveri facciamo parlare ora di te la stessa cosa abbiamo detto tempo fa nessun vadawan potrebbe sperare in un maestro migliore non mi piace non mi piace che lei dice di mettere sei comportata bene consiglio di silenzio sappiamo che potrebbe di montare un posto in carico ci sono dei problemi non parlai nei video facciamo un... oscurità io vedo nel futuro di questi bambini mentre combattiamo ti dire tutti lo abbiamo avvertito eppure la vista del consiglio rimane offuscata gli aventi sul nago a compasso di l'altro mondo sono stati casuali ma questo non è balutelli è un po' troppo è un po' 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 non mi ricordo la principessa come si chiama ok è tempo di lottare no ora il maestro Yoda ci istruirà e poi lotteremo veramente si istruirà come usare la forza questo è bello no fidate guardate guarda guarda impara si vede che mezzo 001 dicevo non ha mai guardato Star Wars perchè se l'aveva guardato evidentemente non diceva che io era una schiappa qualche episodio non ci sono episodi in Star Wars io non lo sa che è bello ok ora vai se fai così vai è veloce devi sporgersi in mano poi sto andando in giro eh si bravo confu panna vai devi continuare ora 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 saltiamo yeee oh si alza bene oma sta dietro ora evitare ostacoli e attacchi muuverti generamente di lato più che dobbiamo muovere i fili che pizza da fare saltiamo oddio ma ne ho capito guardiamolo va 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 ok distrutti oddio saltare attento no proprio in faccia me l'ha preso ok io salati e questa è una vera oddio o che sale no ancora non devi saltare devi abbassare non devi saltare ora basta vai vai veloce dico artino dico velocemente ok basta di no basta di oddio che cuore ok ora vengono avanti salta 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 tanto non ti accanto ok buono vai avanti salta il tanto guarda dove si stiracchia uuuuuh va così occhio eh ok ora ci ho perso la prima battaglia salta vai avanti corri metterlo fai così ok stiamo un certo eh già quattro minuti però porca miseria non abbiamo fatto ancora niente però come prima come già inizio come secondo come secondo episodio questa è la forza la forza la forza è molto importante la forza della mente puoi tenere il braccio indietro prima di sprigionare la forza così il braccio indietro ecco io già ho fatto vai va bene va così va così finita non so se riesce guardate luca non so se riesce così si così ok ora devi muoversi con due mani così alzare in ansia e compagnia usando entrambe le mani gli oggetti più pesanti sulle pade potrà alzati ok alzati bello dai rialzalo e metto 001 si vede che non è a casa sua e non tirarlo non tirarlo non tirarlo abbassalo così non tirarlo abbassalo così e guarda ragazzi non è sempre domenica oltre che oggi è molto piccolo eh si purtroppo un'altra di adesso l'abbasso no devi metterlo alla dove sta giro senti ecco un attimo facciamo le cose a lei un attimo così mi sta soli io ok vai metti bene si ok per te attesivare fai quella così così ok 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 come si vieda male mi pare un maneghino ma stavolta hai vinto tu vado un po' più avanti sono 6 minuti ragazzi io direi che stop ciao dal look però arriva molto a perdere ciao un ciao da look99ds e ciao